Il bilancio Polizia Municipale ha aumentato i servizi di sicurezza urbana, meno multe per eccesso di velocità. Il bilancio Polizia Municipale ha aumentato i servizi di sicurezza urbana, meno multe per eccesso di velocità urbana. Polizia Municipale è in festa per il 188esimo anniversario dalla Fondazione. Nel corso della cerimonia è stato tracciato il bilancio dell'attività svolta nel 2018. Aumentati i servizi per la sicurezza urbana, crollano invece le multe per eccesso di velocità. Vediamo. 32.000 verbali in meno, pari ad una diminuzione del 21% rispetto all'anno precedente. Nel 2018 sono crollate le multe nel comune di Prato. Gran parte del calo si spiega con lo spegnimento dei Velox in tangenziale declassata, risalente a fine 2017, per effetto di sentenze che hanno ritenuto illegittimi quegli apparecchi fissi. È uno dei dati emersi nel bilancio 2018 della Polizia Municipale, stilato in occasione della festa per il 188esimo anniversario di Fondazione del Corpo. Gli incidenti stradali nel 2018 sono tornati ad aumentare del 4,4% e in cima alle strade più pericolose, con 81 sinistri, c'è proprio il viale Leonardo da Vinci. Crescono anche gli incidenti mortali, nove in tutto, di cui due dovuti a malore. Sono 46 i reati di fuga e omissione di soccorso, un fenomeno su cui la Polizia Municipale riesce spesso ad individuare gli autori, come è avvenuto due volte nell'ultima settimana. Mettere in rilievo in particolare la capacità di individuare coloro i quali dopo l'incidente si danno la fuga. Di questi giorni l'ultima notizia, stiamo in queste ore anche affrontando un altro caso e quindi, insomma, questa ci sembra la cosa principale per quanto riguarda la sicurezza stradale, oltre a tutti gli altri interventi, ricordo per esempio tutte le sanzioni per l'uso del cellulare alla guida, il monitoraggio continuo delle auto senza assicurazione e senza revisione. E poi la sicurezza urbana e lì il controllo del territorio insensolato. Lo scorso anno gli agenti di Polizia Municipale hanno rafforzato il proprio impegno per concorrere al controllo del territorio, dalla lotta al microspaccio e alle occupazioni abusive al contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In tutto sono 29 i daspo urbani notificati. Sul fronte del personale, il comandante Pasquinelli ha rimarcato la carenza di organico. Nonostante l'amministrazione comunale abbia destinato la maggior parte della capacità di spesa del personale alle assunzioni nella Polizia Municipale, ha detto Pasquinelli, il corpo ha in forza 176 agenti a fronte dei 186 in servizio nel 2003, 10 in meno dunque rispetto a 15 anni fa. Se i risultati anche il Ministero dell'Interno dà sui reati della nostra città sono quelli che sappiamo, in buona parte, per una parte sicuramente, sono anche frutto del lavoro di queste donne e uomini. Adesso nel prossimo piano assunzionale c'è un altro ulteriore incremento del numero, pur ancora sottostimato, dei nostri agenti. Continuiamo ad investire anche in mezzi e in tecnologie nuove, ma certo l'importante è l'investimento umano. Il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, oggi in città, ha incontrato le categorie economiche e i vertici della CAP, suggerendo di investire la Commissione Europea e il Governo delle presunte violazioni alle normative comunitarie sulla concorrenza commesse nell'ambito della gara unica sul trasporto pubblico locale. Il Consorzio Mobit, gli attuali gestori del trasporto pubblico locale, contestano le scelte della Regione per quanto riguarda la gara del TPL. Per come le è stata rappresentata la situazione e che margini di interventi ci sono? Intanto mi pare molto strano che dopo una decisione del TAR di annullare le due offerte, la Regione abbia deciso di far cambiare un po' i contenuti di un'offerta e affidare a uno dei due partecipanti l'incarico del trasporto. L'altro aspetto che vedo con qualche criticità è che essendo una azienda francese pubblica si può ravvisare un aiuto di Stato illegittimo. Io per questo ho suggerito di rivolgersi alla Commissione europea per raccontare la storia e far verificare se ci sono aiuti di Stato illegittimi e quindi di fatto si sono violate le regole della concorrenza a danno di un'impresa italiana da parte di un'impresa francese. Questo credo debba anche essere verificato da parte italiana non trattandosi soltanto di una questione regionale. Essendoci una violazione ipotetica del diritto comunitario, il primo ministro Conte, che è anche ministro per le politiche comunitarie, dovrebbe verificare e far verificare quali violazioni contro il recipimento in Italia del diritto comunitario sono state operate da parte di una società francese a capitale pubblico. Sono certo che anche Prato tornerà ad avere un'amministrazione di centrodestra con un bravo sindaco come Daniele Spada e con un ruolo determinante di Forza Italia. Così Silvio Berlusconi, in una lettera inviata alla coordinatrice provinciale di Forza Italia, la deputata Erika Mazzetti, che ringrazia per il suo costante impegno a servizio del partito. Un messaggio con il quale il leader di Forza Italia esprime il suo appoggio e sostegno al partito pratese, non potendo garantire la sua presenza in città. I nostri candidati a Prato sono donne e uomini del fare, che hanno dimostrato concretamente nella vita civile, non solo in politica, le loro capacità che metteranno al servizio della collettività nella guida del vostro importante comune, aggiunge Berlusconi. Beatrice Covassi, candidata alle elezioni europee per la lista PD Siamo Europei, è stata ospite ieri al comitato elettorale di Demos, Democrazia Solidale per parlare di prospettive e vantaggi dell'Unione Europea. Ascoltiamo. L'Europa deve essere sempre di più una comunità solidale, una comunità coesa e rimettere la persona umana al centro. Questa è la grande sfida dell'Europa di domani e la grande sfida di queste europee. La distanza che si è creata tra Europa e i cittadini è una distanza siderale. I cittadini non capiscono più i vantaggi, non solo economici, ma anche proprio i vantaggi in termini di appartenenza, cittadinanza e valori di questa nostra Europa. E quindi dobbiamo trovare dei modi di raccordo, delle modalità nuove per far sì che i territori, le comunità partecipino alla costruzione dell'Europa, ma anche che questa Europa del futuro sia un'Europa a dimensione d'uomo. Oltre a tutte le nostre liste candidate nei vari comuni in giro per tutta l'Italia e alla nostra lista alle regionali del Piemonte, le due ciliegine sulla torta sono appunto i nostri candidati all'Europa, Beatrice Covassi e Pietro Bartolo. Oggi a Prato anche l'economista Antonio Maria Rinaldi, candidato alle elezioni europee con la Lega. Rinaldi parteciperà questa sera alle ore 21 all'hotel Datini a un incontro dal titolo in Europa a testa alta, moderato da Tommaso Cocci, candidato al Consiglio Comunale di Prato, con la lista Daniele Spada, sindaco. Lo abbiamo intervistato. Cosa poi deve fare l'Europa per sostenere le aziende del nostro paese, in particolar modo le piccole e medie imprese che sono l'ossatura dell'economia del nostro territorio e anche di un distretto industriale come quello pratese? Ecco, mi piace moltissimo le micro e piccole imprese perché l'Italia è questa, l'Italia non è quella del multinazionale. In particolare Prato sappiamo che in passato è stata un'eccellenza a livello europeo se non addirittura mondiale, dove addirittura il reddito pro capita era il numero uno nella regione toscana, adesso viaggia verso i numeri bassi. Ed è peccato perché a Prato c'è sempre stata un'enorme eccellenza che ha fatto grande il paese, anzi orgoglio italiano. Perché? Per due motivi. Primo perché la crisi economica sicuramente ha fatto la sua parte e poi anche un'amministrazione non idonea che non ha contribuito certo a rilanciare. Con l'Europa si può fare non molto, moltissimo. Sappiamo che l'Italia è il fananino di coda per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi europei. Prato ha bisogno di un'amministrazione che faccia realmente l'interesse del territorio e sicuramente con una forte lega presente nel Parlamento europeo potrà senz'altro abbellirsi anche di fondi europei per rilanciare l'economia del territorio. Pienone al Teatro Politeama ieri sera per il confronto pubblico tra gli otto candidati sindaco di Prato organizzato dal Quotidiano La Nazione. Sul palco Matteo Biffoni centrosinistra, Daniele Spada centrodestra, Carbine Maioriello, Movimento 5 Stelle, Aldo Milone, Prato Libre e Sicura, Marilena Garnier, lista civica Garnier e sindaco, Mirko Rocchi, Prato in comune, Emilio Paradiso, Lega Toscana e Roberto Daghini, comunisti pratesi. È stato un dibattito intenso moderato da David Bruschi e Leonardo Biagiotti. Dalla sicurezza al contrasto al degrado, all'aeroporto, al tema della sanità, sono soltanto alcuni dei temi su cui si sono confrontati e scontrati gli otto candidati. La città ha risposto positivamente all'invito con centinaia di persone in sala ad assistere all'incontro. Necessario rilanciare un turismo culturale a Prato. Si tratta di un punto programmatico della lista di sinistra Prato in comune che sostiene la candidatura sindaco di Mirko Rocchi. È lo stesso Rocchi a spiegare la proposta stabilendo un paragone tra Prato e Torino. Pensiamo a una città molto più grande di Prato per territorio, ma insomma vicina, che all'inizio degli anni Ottanta Torino, sto parlando di Torino, ha vissuto una situazione analoga, anche se noi siamo un pochino più piccoli. E cioè il fatto che all'inizio degli anni Ottanta è stato chiuso il lingotto, la Fiat ha smobilitato e quella che era stata conosciuta e considerata per molti anni una città solamente industriale, una città grigia, triste, si è in pochi anni trasformata, ripensata, facendo le debite e proporzioni. Prato in una situazione analoga, cioè Prato non ha mai valorizzato dal punto di vista turistico un patrimonio culturale, territoriale, artistico notevolissimo. Non si può tornare indietro. È allora una maniera per andare avanti e ripensare la città in una chiave che sia volta ad un turismo culturale di elite, di nicchia, ma che c'è e che cerca sempre nuove mete. Chi ha già visitato più volte Firenze vuole probabilmente conoscere altre piccole perle attorno. Spazio adesso all'agenda degli appuntamenti elettorali in programma domani. Vediamo. Buonasera, vi segnaliamo alcuni appuntamenti elettorali in programma per domani, sabato 18 maggio. Doppio incontro con Matteo Biffoni. Si comincia al mattino alle ore 11 al mercato settimanale di Chiesa Nuova. Incontro con il candidato Matteo Biffoni e con i volontari del Partito Democratico. Alle 18.30 al circolo Costa Azzurra in Via Firenze incontro con Matteo Biffoni e il candidato in consiglio comunale Marco Sapia. Passiamo alla lista Prato in Comune perché alle ore 17 al circolo di Coiano c'è un incontro con simpatizzanti e cittadini per presentare il programma della lista Prato in Comune con il candidato sindaco Mirco Rocchi e i candidati consiglieri Bruno Varriale e Gianni Olandese. A Usella al Capannone, la città per noi alle ore 21, propone un incontro sul trasporto pubblico locale con Alessandro Logli, candidato sindaco di Cantagallo della lista di centrodestra La Città per noi. Sarà presente anche Giuliano Fedeli, ex vicepresidente del Consiglio regionale e presidente dello stesso movimento civico La Città per noi. Poi ci sono alcuni appuntamenti con il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada. Domani Daniele Spada incontrerà residenti e commercianti alle 10.30 ai giardini di via Kulishov. Poi alle ore 11.30 sarà alle fontanelle e al parcheggio Cascine di Tavola. E infine alle ore 17 Daniele Spada sarà in piazza della Guglia alla Castellina e poi a Filettole. Le autorità impediscano la manifestazione razzista di Forza Nuova del 19 maggio a Prato. È quanto chiede l'AMPI nazionale col suo vice presidente Emilio Ricci in una lettera a prefetto questore sindaco di Prato ricordando che a Prato solo due mesi fa, il 23 marzo, Forza Nuova aveva indetto una manifestazione in occasione dell'anniversario dei fasci di combattimento per la quale era stata concessa l'autorizzazione a svolgere un presidio. Ricci spiega che sulla pagina Facebook del movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore è parsa una locandina della manifestazione organizzata dagli attivisti di Forza Nuova per domenica mattina in via Pistoiese sulla quale spicca l'oggetto principale dell'evento, passeggiata contro la sostituzione etnica. Consentire l'iniziativa di domenica significa disattendere e violare il diritto della Costituzione, conclude Lampi. Dal 18 giugno al primo agosto il Chiostro di San Domenico sarà il cuore dell'estate pratese grazie agli eventi organizzati dal Consorzio Santa Trinita in programma concerti, spettacoli teatrali, visite guidate e l'aperitivo diffuso. L'estate in Sant'Orsola cambia formula, si rinnova e si amplia. Quello che era diventato un appuntamento fisso dell'estate nel 2019 avrà il suo cuore non più nei giardini di Sant'Orsola ma nel Chiostro di San Domenico grazie alla collaborazione e alla disponibilità della diocesi. Cambia nei luoghi ma non la formula che dal 18 giugno al primo agosto prevede dal martedì al giovedì musica, spettacoli teatrali, visite guidate, laboratori per bambini e la conferma dell'aperitivo diffuso. Il Chiostro di San Domenico non sarà l'unico luogo ad essere riscoperto. Il Consorzio Santa Trinita ha infatti deciso con la collaborazione del Comune di aprire e valorizzare i giardini del Tignoso raggiungibili dall'omonimo vicolo e sconosciuti ai più. Altro luogo da scoprire sarà il Giardino di San Domenico. Il Chiostro di San Domenico e altri giardini segreti, cioè giardini che in questi mesi abbiamo ricercato, abbiamo coinvolto sia la diocesi che nel Comune e siamo riusciti ad avere due spazi verdi inediti perché erano chiusi al pubblico che praticamente da Porta Pistoiese passano dietro il monastero di San Vincenzo, costeggiano San Niccolò, qualcuno conoscerà il vicolo del Tignoso, per poi entrare in un altro spazio all'interno del convento di San Domenico nei giardini che erano di pertinenza, che sono di pertinenza dei parrici o dei parrici di Don Luigi e questi giardini verranno appunto dedicati, verranno utilizzati per quest'estate pratese, quest'estate del centro storico. Ovviamente il Chiostro rimane la parte centrale, dopo si svolgeranno gli eventi, saranno musica, spettacoli di arte, cultura, oltre al tradizionale aperitivo diffuso. Tutte le sere sarà possibile effettuare l'aperitivo diffuso che vede coinvolte oltre 25 attività di ristorazione del centro con la possibilità di consumazione nel Chiostro. Non mancheranno i laboratori per bambini gratuiti e le visite guidate alla scoperta della città curate da Artemia. In cartellone anche quattro concerti che si terranno nel Chiostro e due spettacoli teatrali. Dal 12 al 14 e dal 19 al 21 luglio inoltre la rassegna si sposterà nei giardini della Rocca di Carmignano, dove il 13 luglio in programma anche uno spettacolo di teatro a canzone. Il 20 è previsto il concerto di fantasia pura italiana. La manifestazione sarà aperta dalla scena inaugurale del 18 giugno nel Chiostro di San Domenico. Intanto domani in occasione della Notte dei Musei, anche a Prato i musei cittadini resteranno aperti in orario serale. Apertura straordinaria e notturna dalle 21 alle 24 con ingresso gratuito per il Museo di Palazzo Pretorio. Oltre alle collezioni permanenti sarà possibile visitare la temporanea Effetto Leonardo, opere dalla collezione Carlo Palli. Il Centro Pecce e il Museo del Tessuto festeggiano la Notte dei Musei offrendo l'ingresso libero ai suoi visitatori dalle 21 alle 23. Apertura straordinaria, d'ingresso gratuito anche per il Museo dell'Opera del Duomo, sempre dalle 21 alle 23 con possibilità di visite guidate al patrimonio del museo con un biglietto di 5 euro. Domenica in tutte le Chiese di Prato si tiene la giornata di sensibilizzazione per la firma dell'otto per mille alla Chiesa Cattolica. Si tratta di un gesto fondamentale per dare un sostegno alle tante attività che anche la Diocesi di Prato compie sul territorio. Maggio, tempo di dichiarazione dei redditi e dunque tempo di scegliere a chi destinare l'otto per mille. Nel fine settimana gli incaricati del sovvenire saranno presenti in molte chiese pratesi per ricordare l'importanza di firmare per la Chiesa Cattolica. Direi che anche nella nostra città ci sono esempi lampanti di come questi soldi vengono utilizzati per la Catechesi, per andare incontro alle persone che sono in difficoltà. Pensiamo alla Caritas, alla Messa alla Pira, all'Emporio della Solidarietà, a tutte le case che accolgono persone in difficoltà. Nel 2017 la Diocesi di Prato ha potuto contare su circa un milione e centomila euro di trasferimenti dallo Stato grazie a questo sistema. Con questi soldi è possibile tenere aperti luoghi fondamentali come il seminario, l'Oratorio di Sant'Anna e la Casa del Clero. A questa cifra possiamo aggiungere altri contributi sempre derivanti dal sistema 8x1000 ai quali può attingere la Caritas Diocesana che attualmente sta finanziando il laboratorio e progetti dedicati ai giovani e alle donne. Altra voce importante derivante dai fondi CEI è quella relativa agli interventi che l'Ufficio Beni Culturali coordina per il restauro delle chiese pratesi che altrimenti dovrebbero contare soltanto sulla generosità dei parrocchiani. Infine Andrea Rosati ricorda che molti italiani non hanno più l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ma allo stesso tempo possono destinare l'otto per mille. Tutti coloro che hanno un reddito possono riempiendo un apposito modello dove semplicemente c'è da scrivere il proprio nome, cognome, codice fiscale e la firmare nella casella della Chiesa Cattolica, metterlo dentro una busta bianca e presentarlo alla posta che ha l'obbligo, l'onere di prenderlo gratuitamente. Chi non volesse fare tutta questa trafila o è anziano o è in difficoltà, non riesce a farlo da solo, può rivolgersi al proprio parroco. Nelle parrocchie ci sono sia i modelli da poter riempire che le buste bianche dove mettere il modello stesso. La Caritas diocesana di Prato cerca quattro giovani per il servizio civile. Il bando è quello regionale e si è aperto lo scorso 9 maggio. Per aderire c'è tempo fino a venerdì 7 giugno. Il compito richiesto è quello di impegnarsi in uno di questi tre settori, Emporio della Solidarietà, centri di ascolto e laboratorio. Per partecipare al bando occorre avere tra 18 e 29 anni ed essere residenti in Toscana. L'impegno orario è di 25 ore settimanali per 12 mesi. Il servizio è corrisposto dalla Regione Toscana con un assegno di 433 euro mensili. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online sul sito servizi.toscana.it. Una due giorni di sensibilizzazione domani e domenica su una malattia rara, quella di Huntington. In Toscana sono 400 i malati stimati e 2.000 quelli a rischio. Quella di Huntington è una malattia rara che in Toscana conta circa 400 malati stimati e 2.000 a rischio, mentre in Italia i malati sono circa 6.500 e le persone a rischio raggiungono quota 35.000. Una malattia che in troppo pochi conoscono e che spesso le persone e le famiglie vivono in solitudine. L'Associazione Italiana Noi Huntington, nata nel 2018 e presieduta da Marco Salvadori, viceparroco della Chiesa Gesù Bonpastore a Casellina, insieme alla Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington, hanno dunque promosso una due giorni di sensibilizzazione su questa patologia. Sabato ci sarà una pedalata alle 10 alle Pavoniere, ci troviamo per partire per pedalare insieme a livello amatoriale, fino alla pubblica assistenza di Campi Bisenzio e pranzare insieme. La domenica abbiamo una messa facoltativa alle 11 e mezza assaminata al monte. Alle 16 un concerto di sensibilizzazione con il maestro Dimitri e Spinozza e un open day della Lega Italiana per la Ricerca su Huntington, che è appunto questa patologia rara. Venite, partecipate, solo insieme possiamo sconfiggere la negatività di questa patologia. L'associazione è nata da pochissimo, com'è nata questa associazione e quali sono i suoi obiettivi? Dalle esperienze sofferte di tanti ragazzi come me, io ho 29 anni, la nostra associazione è originale perché è l'unica associazione italiana che raccoglie e costituisce una rete tra ragazzi dai 15 ai 35 anni. Le nostre storie di sofferenza si sono incontrate in un contesto a Roma e da lì è nato un progetto di resilienza, trasformazione appunto di queste esperienze negative in qualcosa di positivo, di cambiamento e abbiamo deciso di costruire insieme una rete di ragazzi con l'obiettivo di sensibilizzare la società intorno a questo tema, a questa patologia. Ci spostiamo adesso a Montemurlo per le elezioni amministrative del Comune sotto la Rocca per conoscere il programma delle due donne, candidate sindaco. Angela Tortolano del Movimento 5 Stelle punta su partecipazione e tariffa puntuale dei rifiuti. Tra le priorità di Giusi Sabato di Lega Toscana c'è la rotamazione delle cartelle esattoriali. Inclusione, democrazia partecipata, cultura, sostenibilità ed economia circolare sono i cinque punti centrali del Movimento 5 Stelle di Montemurlo che candida sindaco Angela Tortolano. Nel programma dei pentastellati per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ci sono consigli comunali aperti a cadenza regolare e referendum deliberativi. Il Movimento 5 Stelle rivendica il merito di aver contribuito dall'opposizione al processo di partecipazione annunciato dall'attuale giunta per definire eventuali aree commerciali al servizio del nuovo parco cittadino. Altra proposta avanzata dal 2016 dai consiglieri pentastellati uscenti è l'istituzione della tariffa puntuale sui rifiuti. I nostri consiglieri hanno proposto tramite una mozione la tariffazione puntuale per cui è stato approvato dalla giunta però in effetti non è mai stata attuata. Quindi sono stati persi tre anni in cui magari il cittadino virtuoso poteva beneficiare di alcuni sconti. Chi meno rifiuto produce e meno paga. Questo sarebbe stata una cosa che per tre anni comunque non è stata fatta. Tra le proposte della Lega Toscana che candida al sindaco di Montemurlo Giussi Sabato ci sono la riqualificazione delle delizie esistenti in completa esenzione degli oneri urbanistici, un graduale abbassamento dei costi per le rette di asile nido e mense e un anticipo dei contributi per l'acquisto dei testi scolastici. Allo studio anche interventi per sostenere le imprese del distretto alle prese con costi e aggravi burocratici legati allo smaltimento degli scarti tessili. Lega Toscana propone inoltre una campagna di rottamazione delle cartelle esattoriali pendenti, una sorta di pace fiscale con i cittadini per garantire al comune di recuperare una parte di risorse di difficile riscossione. Noi pensiamo a un saldo e straccio per ripartire, per far ripartire le famiglie in difficoltà e perché per noi anche il fermo amministrativo non siamo d'accordo, diciamo no al fermo amministrativo perché la macchina è un bene di prima necessità, che serve per andare a lavorare, serve per accompagnare i figli alla scuola, serve per accompagnare gli anziani e per noi è il no al fermo amministrativo. Non ripartono solo le famiglie, riparte anche metà o più di una metà, poi quello c'è da vedere, per un incremento proprio economico. Enrico Romei, candidato al Consiglio Comunale di Prato per la lista Lo Sport per Prato, che sostiene la ricandidatura a sindaco di Matteo Biffoni, e Pamela Picchi, candidata al Consiglio Comunale per la lista Daniele Spada a sindaco, sono gli ospiti di stasera intorno alle nove speciali elezioni amministrative, vediamo un estratto della trasmissione in onda al termine del nostro telegiornale. Sicuramente al primo posto è il degrado e la sicurezza perché questo è sotto gli occhi di tutti, insomma purtroppo la situazione in cui è verteprato e le cronache anche nazionali purtroppo non solo, quelle locali ogni giorno ci fanno vedere una situazione ormai diventata insostenibile. La nostra lista propone delle azioni, in quanto è una lista chiaramente specifica per quanto riguarda lo sport, prima è dare continuità agli investimenti fatti dalla precedente giunta, quindi i 17 milioni di euro che nei cinque anni sono stati utilizzati sul territorio vanno confermati e probabilmente aumentati, questo si può farlo con un assessorato forte. Ed ora lo sport calcio, Prato ha già lavoro per la prossima stagione in serie D, non confermato l'allenatore De Petrillo, mentre resta al suo posto il direttore sportivo Califano. Pronti per ripartire, il Prato è già un cantiere aperto, il presidente Paolo Toccafondi è già ripartito per programmare il futuro. L'obiettivo è quello di tornare tra i professionisti attraverso una stagione da protagonisti in serie D. Insomma, il Prato nella prossima stagione vuol provare a vincere il campionato. Senza se e senza ma, la delusione patita in questa stagione è stata quocente. La società ha capito gli errori commessi ed è decisa a ripartire con largo anticipo con la programmazione. Primo tassello già definito, la conferma del direttore sportivo. Gianni Califano sarà anche la prossima stagione il grande stratega bianco-azzurro. Altra certezza, la seconda, la conferma dei giovani in quota che sono stati determinanti in questa stagione. Blindati quindi i vari Bassano, Cecchi, Carli, Rozzi e Toccafondi. Per quanto riguarda i 2001, che nella prossima stagione saranno obbligatori in quota, il Prato farà rientrare alla base il centrocampista Calosi dal Porta Romana e benvenuti dalla Cuoio Pelli. Inoltre saranno valutati gli juniores Abdune e Nannini, che saranno aggregati alla prima squadra. Per quanto riguarda l'allenatore, il Prato la prossima stagione non ripartirà da Alessio De Petrillo. La separazione tra il Prato e il tecnico di Cascina verrà sancita nelle prossime settimane. Il presidente Paolo Toccafondi e il direttore sportivo Gianni Califano dovranno individuare il sostituto. Sono almeno cinque i profili da sondare, con Massimiliano Alvini, ex pistoiese d'Albino Leffe, la prima idea da sviluppare. Infine l'altro fronte che rimane aperto, quello legato al possibile ripescaggio in Serie C. Le speranze sono quasi nulle, ma se si dovessero aprire degli spiragli legati a rinunce o a riforme da parte della Lega, il Prato sarebbe pronto a presentare la propria candidatura. Ma questa, ad oggi, è più una speranza che un'ipotesi. La realtà si chiama ancora Serie D. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi, tra poco Agenda e Meteo. Ben ritrovati, è il momento della nostra Agenda per andare a scoprire tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Fino a domenica, al Teatro Fabricone, lo spettacolo Scene da Faust, regia di Federico Tiezzi. Domani alle 11.30, l'ex chiesino di San Giovanni, l'ex leader degli Spandò Ballet Tony Hadley, sarà a Prato per incontrare i fan in occasione del suo nuovo album, di cui firmerà le copie. Alle 18.30, al Circo Lorenzo degli Innocenti, a Galciana, un click, una storia, inaugurazione della mostra fotografica del corso 2019 del Fotoclub San Martino. Infine alle 21.00, alla parrocchia di Santa Rita alle Fontanelle, Cantiamo Gesù. Torna alla rassegna dei cori parrocchiali pratesi, si esibiranno le corali Eligio Francioni di Gesù Divino Lavoratore, Ottava Nota di Vaiano, Cantabello di Cafaggio, Corale di Castelnuovo e Padroni di Casa delle Voci di Santa Rita. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona serata a tutti dalla sala metodo del Consorzio Lamma, cominciamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Vediamo come sull'Europa e sul Mediterraneo si è presente un'area di bassa pressione piuttosto estesa, una perturbazione associata a questi minimi si sposta verso la nostra penisola, la interesserà nella giornata di sabato e anche in quella di domenica. Andiamo a vedere la previsione per domani, sabato un cielo molto nuvoloso con piogge sparse, rovesci, anche qualche temporale sia la mattina che il pomeriggio. Durante il pomeriggio fenomeni più probabili sulle zone settentrionali, qualche timida scarita sul sud della regione, venti prima di Scirocco, poi di Libeccio con mari generalmente mossi, temperature minime in aumento, massime in lieve diminuzione. Passiamo alla domenica, ancora velocità irregolare, più compatta la mattina sulle zone interne, qualche scarita sulla costa, nel pomeriggio ancora scarite sul litorale, rovesci sparsi e qualche temporale sulle zone interne. Venti di Libeccio, soprattutto se si sentiranno sulla costa settentrionale dove i mari saranno mossi e le temperature nei valori massimi ancora in leggero calo. Bene, con questo direi che è tutto, vi auguro una buona serata. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione per domani alle 13.45. Vi lasciamo adesso intorno alle 9, speciale elezioni amministrative, spazio questa sera alle liste sport per Prato e Daniele Spada, sindaco. A seguire la trasmissione Prato Sport e alle 22 circa il confronto tra i candidati sindaco dei tre comuni della Val di Bisenzio, Vaiano, Vernio e Cantagallo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie a tutti.